e c'è chat gpt4 oggi ti mostro come registrare le telefonate col tuo iphone andiamo a vedere come si chiama plaud ed è un registratore super sottile che al suo interno nasconde l'intelligenza artificiale ma andiamo per gradi come si registra una telefonata è semplicissimo basta semplicemente tirare su questo selettore colorerà di arancione inseriamo il registratore all'interno della sua custodia magsafe io l'ho presa anche in azzurrino perché il mio iphone è blu molto carina e di materiale premium insomma attacchiamo il registratore dietro l'iphone e il gioco è fatto verrà registrata l'intera conversazione e se vogliamo bloccare la registrazione basterà tenere premuto di nuovo il tasto settiremo una doppia vibrazione e la registrazione si sarà fermata ce ne accorgiamo anche perché la luce è spenta è possibile anche effettuare delle registrazioni che non siano telefonate basta tenere giù il selettore e far partire la registrazione come prima perché ho tirato in ballo l'intelligenza artificiale perché c'è chat gpt4 che creerà una trascrizione dell'intera conversazione e se volete effettuerà anche un riassunto e una mappa mentale super utile quando per esempio si va all'università e si seguono lezioni di ore e ore e ore e se vogliamo arrivare a un punto preciso della lezione non vogliamo sentircela tutta ci basterà scorrere la registrazione la trascrizione della registrazione cliccare sul testo e da quel punto in poi potremmo sentire la registrazione davvero super utile e se il video ti è stato utile mi raccomando seguimi e condividi e sul mio profilo trovi il link per acquistare questo fantastico e sottilissimo registratore ciao ciao